I Quasar sono in 5, sono insieme da 6 anni e fanno del rock melodico Allora io vi lascio con i Quasar Adesso vorrei, parla lì a quel microfono così almeno il... Ecco, il titolo del brano che presentate Saggio della notte Benissimo, vi lascio con i Quasar Grazie Grazie Quante volte immaginate di portaggi Quante volte un lato al vento non ce la faccio più Forse nei pensieri hai il viso di un uomo come me Che ti venda per portarti via cosa Tutto per nasconderti almeno come vuoi Per sembrare a tutti i guardi della cosa Un ricordo caldo a un vicino a di me avrai Ma anche il fuoco sta bruciando Non ti fai Che 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 dentro la sua fantasia Non ti fai Che 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 dentro la sua fantasia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti